Risvegliatisi in un misterioso luogo che sembra Tokyo e popolato da gente che sembra di Tokyo e dall'odore di Tokyo, tre giovani amici scoprono di essere a Tokyo. Aiutati da una ragazza e dal suo potere speciale, diventano un drago, i fuggitivi si troveranno ad affrontare pericolosi nemici, come i ninja delle sigarette. Rapimenti, panini coi biscotti, gigantesche cacche d'oro, pozioni magiche, quartieri che spandono. Ah sì, e poi ci sono anche i cagnolini che vi aspettano nel primo ineluttabile, incredibile e sommergibile episodio dei fuggitivi.